Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Lost Manalora e qui siamo su un nuovo video di 2k14 Come al solito su 2k14 non vi accompagneremo con le normali scupe di beta Ma questa volta vi accompagnerò creando il mio personaggio Allora andiamo a vestitiario perché è la parte più bella del mondo 5 Già, bello Fantastico Allora Gusto Maglio Tutto è schifo Alto Alto Ah, questo è bello Il mio colore è più bello e rosso quindi ci intendiamo Accetto Guardatelo lì Quanto è swag Poi Pantalone Pantalone Sì dai giallo Può andare Ale Mi chiamo Lecce C'è tutto C'è tutto C'è tutto, c'è tutto, c'è tutto C'è tutto E' tutto E' tutto E' tutto E' tutto Quindi giocati molto, giocati, 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 capelli dove si mettono quelle cose alle mani? ha i capelli ho i capelli non si mettono è un po' più dieta di lungo, eh, questi belli con le cosciole no, perché accetta i capelli? colore bello dato che i miei capelli sono più ordi, non faremo più ordi ecco ecca, ecca, ecca guardatelo quanto si sente un picco allora, poi quello quello, dimmi che te la fettura viso c'è quella di Ultimate Warrior perché c'è quella di Ultimate Warrior un po' più non c'è uno di altri che vuole no tipo va bene quella di Gioffardi per caso va bene poi ho le mani sai mani 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 mani, biancheria, calzoni, pantaloni, scrittura no non mi fate parlare di design abilità comeback ali ok attributi ne siamo le ali guarigione alle dai alle accetta nome chiameremo con il mio vero nome no, mai chiameremo Los Matadores per voi gente ma ma no i dosi ok 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 il peccione del del super star del ace del sabriano No, diciamo leggendo e... Ok, adesso ce l'ho detto. Dai, dai. Non vediamo mai il cerchio. Oh, oh, che vuoi dire? No, perché vuoi dire? Non voglio leggere un giocatore. Oh, con le chiappe a caricare! Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Il prossimo episodio, che non è un set di mosse, lo proveremo nell'entrata e ci vediamo al prossimo video.